Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video nel quale, in questa nuova diretta live, nella quale propongo e proponiamo noi tutti la soluzione di un esercizio. Allora, l'esercizio dice questo, le targhe delle automobili, è anche vero, sono costituite da due lettere, tre cifre e altre due lettere. Ad esempio, CK714DE, questa è la targa di un'automobile. Inoltre, questo esercizio ci aiuta dicendoci che le lettere possono essere scelte tra 26, quindi le lettere sono 26, ovviamente dell'alfabeto inglese. Ci chiede quante targhe differenti possono essere ottenute, quindi quante targhe diverse si possono ottenere. Adesso analizziamo l'esercizio e ovviamente, oltre a fornire la soluzione, vediamo anche la motivazione e quali sono i passaggi logici. Allora, intanto la traccia che mi avete mandato propone 5 risultati. E ci chiede, cioè il primo è 26 elevato alla seconda per 10 per 26 elevato alla seconda. 26 alla seconda per 10 alla terza per 26 elevato alla seconda, 26 per 10 per 26, 26 per 2 più 10 per 3, più 20, cioè, scusate, questo è per 10 per 3, per, se non si mette il per è come se ci fosse, ve lo ricordo, eh, 26 per 2. E qui mette il calcolo binomiale di 26 e 2, 10 con 3, 26 e 2. Attenzione, ci sono i distrattori, ci sono dei distrattori, poiché noi sappiamo benissimo che ci sono due lettere qua con 26 combinazioni. Cioè, ogni lettera può essere una delle 26 inglesi. E sappiamo che ci sono, anche qui avviene la stessa cosa. E come vedete il sistema è simmetrico, ci mette 26 al quadrato, 26 al quadrato, 26 e 26, 26 per 2, 2 lettere, 26 per 2, 2 lettere, 714, ogni numero, ci sono 10 numeri, ci dice 10, 10 alla terza, solo 10 o 10 per 3, o il calcolo binomiale 10, 3. Ovviamente, io vi rispondo che per me la risposta giusta è la B, però andiamo ad analizzare. Allora, le targhe, ovviamente, sono costituite, ce lo dice il testo, da due lettere, tre cifre, tre numeri e altre due lettere. Le lettere possono essere scelte tra 26 lettere d'alfabeto, con due lettere, quindi, scelte tra 26. E le possibili ripetizioni sono tutte 26, quindi, tenendo conto dell'ordine, si possono ottenere 26, quindi per il primo gruppo di lettere, le disposizioni che si possono ottenere con ripetizioni, quindi si scrive 26, 2, sono 26 alla seconda. Per quanto riguarda le cifre, anche le cifre si possono ripetere, ossia ci può essere 0, 0, 1, piuttosto che 9, 9, 9, piuttosto che 0, 0, 0, piuttosto che 1, 1, 1, 1, quindi sono tutte le disposizioni 10, 3, e quindi è 10 alla terza. Similmente, si può dire, delle ultime due lettere, che sono le disposizioni 26, 2, di nuovo 26 al quadrato. Quindi, la soluzione è 26 al quadrato per 10 alla terza, per 26 al quadrato. Se vi interessa, potete sapere in Italia quante combinazioni di auto si possono avere, e soprattutto quando si cambia la prima lettera, quante auto ci sono immatricolate. Vi do una informazione in più. In generale, se un'operazione è costituita da n passi, di cui il primo passo prevede n1 modi possibili, e il secondo n2 modi possibili e l'ennesimo, n ennesimo modo possibile, l'operazione può essere effettuata in quanti modi? In n1 per n2 per n3 per puntini puntini, n, n-1, e scusate, qua è un per, n alla n. Facciamo un esempio. Se n è 6, ottengo n, scusate, se n in tutto va da 1 a 6, quindi ci sono 6 numeri, ottengo n1 per n2 per n3 per n4 per n5 per n6. In matematica, questo si scrive, ve lo aggiungo per completezza, la produttoria di i che va da 1 a 6 di n con i. Ok. Quindi, in totale, si perviene ovviamente a questa soluzione, che in termini matematici si può anche dire che si ottengono le disposizioni pari al prodotto, le disposizioni totali sono pari al prodotto delle disposizioni di 26,2, per le disposizioni di 23, per le disposizioni di nuovo 26,2. Ovviamente non vi mettono come risultato una procedura assolutamente proposta in termini matematici, ma vi scrivono un numero che però prevede un minimo di conoscenza del calcolo combinatorio. Bene, allora, io penso che con questo video abbiamo risolto il problema che mi avete mandato. Se volete sostenere il canale, iscrivetevi e condividete i video. Alla prossima, un caro saluto da Francesco Samani.